Quello che state vedendo è un evento successo nell'universo più di un miliardo di anni fa, quando la Terra era popolata solo da alcuni batteri. In quel momento due buchi neri che ruotavano l'uno attorno all'altro si sono fusi, formandone un terzo. Un processo catastrofico che ha prodotto un'immensa quantità di energia, rilasciata non sotto forma di luce, ma per mezzo di un'onda molto particolare, in grado di deformare lo spazio e il tempo, chiamata onda gravitazionale. Talmente particolare che lo stesso Einstein, che cento anni fa ne teorizzò l'esistenza come pura soluzione matematica, dubitava che sarebbe mai stata misurata. Lui stesso non era sicuro di cosa questo avrebbe comportato e addirittura molte persone pensavano che potesse essere semplicemente una soluzione matematica senza nessun riscontro fisico. Poi lui fece delle valutazioni e decise che comunque era un fenomeno assolutamente immisurabile. E quindi la nostra soddisfazione oggi è invece aver dimostrato il contrario, in fondo aver dimostrato che lui aveva torto in questo, ma penso che lui sarebbe felice se fosse vivo oggi e chissà, forse dall'alto ci ha anche visto. Avere misurato le onde gravitazionali apre le porte ad una nuova era per lo studio dell'universo, finora studiato solo attraverso la radiazione elettromagnetica, onde radio, infrarosso, luce, raggi X e raggi gamma, perché l'energia trasportata da queste onde fino a Terra racconta di fenomeni impossibili da vedere con gli strumenti tradizionali, come i buchi neri, che non emettono luce, fino a sollevare un velo sulla origine e sul destino dell'universo. Ma gli oltre mille scienziati autori della scoperta, guidati dal fisico Kip Thorne, non a caso consulente scientifico del firma Interstellar, non escludono nemmeno la possibilità di scoprire oggetti finora solo immaginati, l'avventura è appena cominciata. Anche l'oggetto che abbiamo scoperto non era un oggetto di cui si era mai dimostrata l'esistenza, c'erano supposizioni, cioè buchi neri di queste masse, 30 masse stellari, nessuno le aveva mai viste, non eravamo sicuri dell'esistenza. E che un sistema binario di buchi neri potesse fondersi e formare un terzo buco nero, anche questo non era mai stato visto. Ma è ovvio che mettendo insieme le nostre informazioni, congiuntamente con quelle che vengono da telescopi, radiotelescopi, da satelliti, è molto facile che scopriremo qualcosa di diverso e di inaspettato. La letteratura aveva non solo previsto, ma ormai da tempo macinato in tutte le sue possibilità quello che è la scoperta delle onde gravitazionali e soprattutto delle sue applicazioni, dal teletrasporto al viaggio nel tempo, al viaggio negli universi paralleli. Letteratura e anche il cinema, devo dire. Un film come Interstellar, ad esempio, credo dovrebbe essere reso una visione obbligatoria per i ragazzi, soprattutto per quelli dell'età di mio figlio, diciamo, adolescenti, che ritengono che ormai il mondo non abbia spazio per il meraviglioso. Beh, quel film che è un film scientifico, un film con basi tecniche molto solide, in realtà apre dei mondi alla fantasia e anche al cuore, nel senso che ci mostra cosa la tecnologia può fare per le nostre vite, cosa potrebbe essere il nostro futuro se cessiamo di credere a ricatto del quotidiano, a ricatto dell'idea che non c'è più nulla da scoprire. In realtà c'è un universo da scoprire e una scoperta come quella delle onde gravitazionali ci aiuta, ci apre una porta in più, è una porta gigantesca, è la porta di una cattedrale che è la cattedrale della creazione.